E' una discoteca abusiva quella che hanno trovato i carabinieri durante i controlli straordinari del territorio effettuati nell'ultimo periodo. Così un 38enne di Canicattì è stato denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento. L'uomo infatti non avrebbe potuto organizzare all'interno del suo bar una discoteca senza l'autorizzazione e la licenza richiesti dalla legge. Inoltre è stata informata anche la prefettura che dovrà verificare se disporre o meno un'eventuale temporanea chiusura dell'attività. I militari dell'arma infine, visto l'aumento della criminalità che si è registrato nell'ultimo periodo in città, nelle ultime ore hanno effettuato diverse identificazioni, verifiche e perquisizioni per prevenire e reprimere qualsiasi tipo di reato.